Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video della ModCraft 2.0 Nello scorso episodio abbiamo finalmente ucciso il Cavaliere, il Guerriero delle Fiamme Ed è stato anche piuttosto semplice grazie alla mia nuova fantastica e velocissima e fortissima spada Guardate quanto è bella E questa la dovremmo trasformare ovviamente in Spada del Sangue Rosso Quindi dobbiamo trovare il modo di recuperare questi incantesimi Alcuni di voi mi hanno detto perché non provi con la mola Però non credo che con la mola ti torni indietro il libro Semplicemente ti torni indietro le esperienze se non sbaglio In ogni caso guardate cosa ho trovato ragazzi Stavo camminando nel nether e ho trovato una struttura strana Pensavo fosse un bastione all'inizio e ho pensato ah fantastico Allora in questo modo se trovo il bastione posso ottenere tantissimi loot E soprattutto i nuovi blocchi che mi serviranno per trasformare la spada in Spada del Sangue Rosso del Nether Invece non sembra un bastione se devo essere sincero Andiamo a dare un'occhiata immediatamente a questo possibile nuovo dungeon del Nether Ma cos'è una piramide? Ma sembra una piramide ragazzi Non può essere una piramide nel Nether dai Devo entrare con molta molta cautela Devo stare tanto tanto attento Tra l'altro se vedete ho in mano un totem Questo totem se praticamente lo clicchi per terra Ti dà protezione per 4-5 secondi all'incirca E tecnicamente dovrebbe rendermi quasi immune ai mostri Agli attacchi dei mostri Il che è fantastico ragazzi È veramente una cosa super super OP Ok allora Eccoci qua Entriamo Ok La piramide che connette i mondi Questa è una cessa trappola No io ho paura Raga ho veramente paura Secondo me è pieno di trappole e ci muoio Allora facciamo così Posso rompere i blocchi? C'è della TNT Ok Bene Fantastico il fatto che ce ne siamo accorti Per fortuna abbiamo visto che era una cessa trappola Perché mi ha dato l'achievement? Vabbè non importa La posso aprire adesso no? Sì Oh mio dio Spade Spade strane Incantesimi Fire protection Sharpness 3 Fire protection Bene Benissimo Quindi anche se dovessi trasformare la spada in spada del sangue rosso del nether Posso comunque mettere già uno sharpness 3 che non è male ragazzi È un ottimo incantesimo Adesso io però sono curioso Voglio vedere il resto della piramide perché Ho come l'impressione che ci sia altro Sbaglio a pensarlo? Probabilmente sì Ah ma questo Ehi 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 Questo qua È un portale Potrei tornare nel mondo normale utilizzandolo Beh del resto non ho una casa quindi tanto vale utilizzarlo Ok Torniamo nel mondo normale ragazzi Anche perché adesso dobbiamo fare tantissime nuove cose Mi è crashato tutto ma mi sono anche spariti i libri Ma non è giusto Tutto quello che avevo trovato qua ragazzi mi è sparito dall'inventario Ok appena sono entrato nel portale mi è crashato Quindi non è una buona notizia Anzi è una pessima notizia Facciamo che usciamo da qua Torniamo Torniamo al portale originario Oppure continuiamo a esplorare il nether In ogni caso voi lasciate un mi piace a questo video Mi sa proprio che dovrò rimuovere qualche mod Cosa? No aspetta un attimo Questo è un villaggio Mi stai veramente dicendo che esistono i villaggi del nether? Non ho mai visto niente del genere Oh mi attaccano? Perché mi attaccano? Perché non ho l'armatura? Certo Prendi questo Allora questi sono praticamente i villager Di questo villaggio? No È popolato da piglins Proviamo a entrare Cosa c'è qua dentro? Niente di buono A parte Ehi Come ti permetti entrare? Oh Quindi questa volta sono io il cattivo Cioè loro sono gli abitanti del villaggio E io sono il cattivo che provo a ucciderli Chissà se c'è anche un iron golem O qualcosa pronto a difenderli Non ci posso credere ragazzi Questa cosa è pazzesca Non avevo la minima idea Che esistesse un villaggio nel nether Allora Voglio provare assolutamente Il mio nuovo totem Vediamo se è vero che mi rende immortale Mi dovrebbe dare una protezione È vero Non riescono ad attaccarmi Fantastico Muori Ok lo strider Non lo voglio uccidere Poverino Però voglio esplorare Tutto questo villaggio Ma stiamo scherzando? Redstone Ok non me ne faccio nulla Questa è una mappa per un bastione Ok Ma guarda qua Tutte le casette in stile nether Voglio tutte le ceste Andate via Sono ben più forte di voi Mi dispiace E anche di te Niente ceste Cesta Ok beh c'è semplicemente del cibo Delle pepite va bene Però wow Che sorpresa Non me lo aspettavo sinceramente Non avevo la più pallida idea Allora queste scarpette teniamole Perché ci potrebbero servire Bellissimo anche questo Cos'è questo? È un bastione? Non capisco Oh Ma come ti permetti Va via Va via Allora Credo che questo sia un bastione Giusto? Questa struttura qua Andiamo a dare un'occhiata un attimo Così sembra No non è un bastione È soltanto parte Del bioma vulcanico Ok Oh Ho completato tutte quante le destinazioni Quindi sono andato in ogni bioma E credo che questo sia l'ultimo Che cos'è tipo il paradiso? È tutto bianco Che cos'è? Oh aia Oh 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 Sto coso brucia Che cavolo di materiale è? Scusate Fatemi dare un'occhiata È frost magma Oh No ragazzi È magma congelato Avete presente che il ghiaccio Dopo un po' effettivamente Sto lo tieni in mano per tanto tempo Ti brucia le mani Ecco È lo stesso identico effetto Non ci credo Andiamo in giro Pazzesco Ma c'è qualcosa Oh una fortezza Bene Così possiamo trasformare la nostra spada Da spada normale In spada del sangue del nether Ok C'è anche un wither Ma io ho già ucciso Il wither Quello grande Quindi figurati se mi faccio intimorire E spaventare Da un piccolo scheletro Mi sta dando tutti gli avanzamenti da capo Non so per quale motivo Però prendiamo tutti questi blocchi Che ci servono Per fare la spada crimson Vi ricordate? Crimson sword Eccola Quindi servono Questi qua E servono anche quelli rossi Quelli rossi come cavolo si fanno? Con Ok Nether bricks Beh non dovrebbero essere troppo difficili da fare Qua c'è qualcosa di utile Una balestra Un anello della rigenerazione Attenzione Questo è utile Questo Non mi interessa Oh aspetta Questi però sì Così possiamo fare i nether bricks C'è altra roba? Mmm Qua è abbastanza inutile Ok Ho sicuramente già abbastanza materiali Per fare la spada Di sangue rosso del nether Bello quest'arco Arco guardiano Ok ragazzi Direi che è arrivato il momento Di craftare la nuova spada Quindi andiamo a prendere subito della legna Così Possiamo fare la crafting table Perché voglio assolutamente vedere Se riesco a salvare gli incantesimi Se non li dovessi riuscire a salvare Pazienza Perché posso comunque Trovare uno sharpness 5 O lo posso anche farmare Cioè guardate C'ho 41 livelli Figuratevi se è quello il mio problema Allora Io credo che il libro Non te lo ridia indietro No infatti C'è impossibile che ti dai il libro No Non puoi mettere questa legna? Ok non avevo idea Vorrà dire che dovremmo farci un secchio Mi faccio un secchio di lava Così posso usarlo come combustibile Tanto figurati La lava qua non manca Adesso Lava Così mettiamo a cucinare questo E abbiamo i bricks Fantastico E pazienza ragazzi Io non la disenchanto questa spada Se in qualche modo Dovessero rimanere gli incantesimi Anche trasformandola Fantastico Altrimenti li rifacciamo Quello che mi preoccupa di più È questa armatura Si sta per rompere Devo assolutamente mettere Mending in questa armatura Sì 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 È una priorità Allora facciamo subito i Com'è che si chiamavano Quelli rossi Eccoli qua Uno Ok Tecnicamente dovrei avere tutto Siete pronti? Vediamo Trasformiamo la mia super spada In spada Del sangue rosso del nether Ok Per degli incantesimi Mi dà soltanto Tra virgolette 15 d'attacco Questa me ne dà già 16 Però Ne vale la pena ragazzi Perché poi Semplicemente mi basta Incantarla di nuovo Con gli stessi incantesimi E mi darà tipo 18 o 19 d'attacco Quindi Facciamo Il miglioramento Bam 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 Ecco la spada Del sangue rosso Del nether Guardate quanto è bella Mamma mia Allora È più veloce anche? Non ne sono sicuro No Ha la stessa identica velocità Però è semplicemente Più potente Che è proprio quello Che a noi serve Ricordatevi ragazzi Che al momento A noi serve La potenza E la resistenza Dobbiamo trovare Un'armatura migliore Un'arma migliore Per poi sconfiggere Ogni boss Che vediamo Mi raccomando Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto questo video Della modcraft Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo